A Frontone è tornata la magica atmosfera con i mercatini nel castello di Babbo Natale. L'iniziativa nella rete del Natale che non ti aspetti ha preso il via domenica 4 dicembre con il taglio del nastro inaugurale. Un bel segnale ha esordito il sindaco Daniele Tagnani dopo l'alluvione del 15 settembre scorso che ha colpito Frontone, uno dei borghi fortificati più belli d'Italia. È una bellissima giornata, ha aggiunto Bartocetti, presidente dell'UMPI di Pesero Orbino. Soprattutto una grande soddisfazione chiudere il secondo fine settimana con migliaia di visitatori da tutta Italia e anche un pullman di turisti americani. Siamo molto contenti dei primi esaltanti risultati. Bartocetti ha poi ringraziato la regione Marche per l'ampio sostegno. 22 borghi e città della nostra regione che si uniscono per dar vita al più grande evento dedicato al Natale nel centro Italia. Oltre 100 manifestazioni per ricordare quelle tradizioni attorno ai quali le nostre comunità si sono costituite ma che rappresentano anche un grandissimo traino per l'economia del nostro territorio e del centro Italia. Un ringraziamento a tutti i volontari, alle amministrazioni comunali e alle proloco che anche quest'anno possono godere del sostegno dell'amministrazione regionale. La regione crede in queste iniziative, si fa forte di tanti volontari che animano i nostri eborghi e che ci fanno rivivere le splendide emozioni del Natale, una festa della famiglia. Oltre ai rappresentanti del comune e della regione erano presenti Marco Bruschini, direttore dell'Agenzia regionale per il turismo e l'internazionalizzazione, Agnese Tuffelli, vice direttore di Confcommercio Marche Nord e il sindaco di Sera Sant'Abbondio Ludovico Caverni. Siamo qui a Frontone per questa splendida manifestazione che riporta il senso del Natale, i valori del Natale in questo pezzo delle Marche. 22 comuni fanno sistema insieme per fare un'azione promozionale comune del periodo delle festività natalizie. Questo per noi dell'ATIM è un segnale estremamente importante perché la nostra azione vuole creare un brand unico della regione Marche e vuole dare un messaggio unitario di una regione plurale. Iniziativa di Frontone replica l'8 e 11 dicembre. Tutti gli eventi sono consultabili sul sito e sulla pagina Facebook del Il Natale che non ti aspetti.